Enea Silvio Piccolomini Con Piero Badaloni conosciamo meglio l'uomo che nel 1458 salì al soglio pontificio con il nome di Pio II. Un poeta, un umanista, un alunno delle muse saliva alla cattedra di Pietro. Illustri conosciuti, sabato alle 21.20. A seguire, con Cesare Bocci, ci addentreremo in un luogo sontuoso e carico di misteri. Villa d'Este. Perché spendere cifre favolose per creare un giardino pensato per spaventare chi c'è? Segreti, i misteri della storia.